L'arancia, il citrus aurancium, è un frutto prezioso della nostra terra che cresce bene nei climi temperati. In tutto il periodo invernale, grazie alle numerose qualità esistenti in natura, viene raccolto e consumato fino a tutto il mese di aprile. E dell'arancia, nei suoi tre tipi, amara, dolce e bergamotto, si utilizza proprio tutto. Ma attenzione nella scelta, preferite arance opache e sode con la buccia integra, evitando quelle troppo lisce e lucide, quasi certamente trattate con conservanti. Evitate i frutti coperti con carta velina, impregnata di difenile, una sostanza antimuffa nociva all'organismo e quelle di peso troppo leggero. Hanno certamente poco succo. E allora ha tutta arancia. Eccoci qua, siamo tornati in studio, siamo con il nostro nutrizionista Mario Mauro Mariani. Ben tornato. Mario, mi è farso di sentire nella scheda che addirittura attenzione alle arance con la carta velina. Perché dice questo? Perché questi prodotti, queste carte, contengono le sostanze come il difenile, che mantiene l'arancia in vita il più lungo possibile. Quindi per lo surf life, la vita di scaffale, in questi grandi magazzini, fa sì che quest'arancio si mantenga oltre il lecito. In questa sostanza che però, attenzione, nel 2004 è stata definita proprio un fitofarmaco. E questo con l'arancia è un problema, perché la buccia dell'arancia è porosa e quindi lo trattiene. Quindi assorbe tutto quello. Quindi anche un consiglio assoluto che ribadiamo ogni volta, che la frutta va mangiata possibilmente con la buccia. Vedremo ora dopo le qualità della buccia dell'arancia. L'acqua e bicarbonato hanno un grande ruolo nel togliere queste sostanze, però nelle bucce lisce, come la mela o la pera, per farci intendere dai telespettatori, questo è più semplice. C'è una pulizia quasi totale. Nell'arancia si fa più difficoltà perché è porosa e quindi trattiene. Allora, ma noi parliamo spessissimo delle arance, soprattutto in questo periodo. Attribuiamo sempre all'arancia la vitamina C, ma ha anche un altro ruolo. Vedremo poi nella scheda tantissime qualità. Innanzitutto il 6-7 novembre scorso, nello scorso mese, l'arancia è stato il simbolo, come ogni anno, della giornata per la ricerca sul cancro. Quindi è stata eletta proprio come un simbolo che, saprai, proprio l'associazione italiana di ricerca sul cancro lancia i cinque colori ormai da diversi anni. Come facciamo anche noi. Come facciamo noi. Quindi questo è un ribadire quotidiano, soprattutto a loro, ai ragazzi, di acquisire le buone abitudini. Da quando sono piccoli, perché poi associano anche quei profumi, quegli odori. Da quando sono piccoli li riscoprono anche quando sono grandi. Senti, ma possiamo fare a meno dell'arancia? Assolutamente no. Soprattutto in questo periodo, perché vedremo, oltre che di vitamina C, è ricca di tante sostanze che fanno sì proprio che sia un prodotto tipico della stagione. Noi mediterranei, ma nel mediterraneo metto proprio noi italiani, abbiamo veramente un Eden. È un posto paradisiaco il nostro per la frutta e la verdura stagionale che man mano ci accompagna. Allora, prima di vedere la scheda però, la storia dell'arancia. No, perché adesso mi hai detto Eden, mi è venuto in mente che c'era anche nell'Eden l'arancia. Assolutamente. Le speridi, le arance in biologia vengono chiamate anche speridi e sono proprio le speridi che erano le figlie di Atlante della notte nel giardino all'epoca nell'Eden e quindi questo frutto era un frutto molto importante già da quei tempi, ma importante anche ai giorni nostri. Quando ci sposiamo la sposa va all'altare con i fiori d'arancia. È vero. Allora, vediamo la nostra scheda. Che cosa contiene l'arancia? Allora, contiene fonte di vitamina C, vitamina A, buona parte delle vitamine del gruppo B, in particolare tiamina, riboflavina e niacina. Elevato contenuto di bioflavonoidi, antocianine, limonene, fibra alimentare, solubile, sinefrina. Allora, innanzitutto partirei con questa, la tiamina, riboflavina e niacina. Sono vitamine del gruppo B, importantissime, fra le quali la tiamina, la vitamina B1, è proprio lei che è stata a dare il termine alla vitamina, vita ammina, cioè la vita associata a un gruppo amminico. Quindi la tiamina è stata la prima vitamina scoperta e come tutte le vitamine del gruppo B, io ti parlo sempre di cascata antiossidante trasversale, no? Questo termine che ti dico... antiossidante significa, nel senso, trasversale che dobbiamo prendere tanto. Nell'arco della giornata. Quindi diremo la quantità di arance, almeno 4 al giorno, ma non tutte assieme in una spremuta, in diversi momenti e in diverse posologie. E poi le miele, come abbiamo visto. Questo per far sì che proprio riusciamo a coniugare tutti gli elementi. Ecco, ad esempio, bioflavonoidi. I bioflavonoidi sono la caratteristica principale, a mio avviso, assieme alla vitamina C, anche perché, ricordi la scorsa puntata, il professor Iorio, il biochimico che ci parlava di antiossidanti, ha detto a un certo punto, attenzione a prendere troppa vitamina C. Come vi dico, attenzione a prendere troppe spremute da sole nella giornata, perché si prende praticamente una quantità di acido ascorbico elevato. E cosa manca? I bioflavonoidi, e se manca questa sostanza, che è la parte bianca, non dobbiamo combattere il bianco, anche quando lo sbucciamo l'arancio, vedo una lotta nel togliere il bianco. E invece è molto importante, anche... Ecco, perché fanno bene i bioflavonoidi? I bioflavonoidi, innanzitutto, per le signore, rafforzano molto i vassi capillari, ma hanno un ruolo fondamentale per rafforzare il collagene e quindi i nostri denti e le nostre ossa e i nostri legamenti. Lì vedo che ci sono delle spremute... Abbiamo una spremuta, una centrifuga... Allora, facciamo vedere bene, la spremuta, eccola qua, la prima a sinistra, poi abbiamo la... La centrifuga, che ora un po' si è sierata, vedi, si è separata, proprio perché c'è il bianco, vedi la differenza, la presenza del bianco e del bianco... E quello è un succo. È un succo. Allora, vogliamo fare anche una distinzione per far capire bene anche ai ragazzi che ci stanno guardando, ai genitori, ai nonni, quando diamo da bere ai nostri giovani. Che differenza c'è tra la spremuta e il succo? Allora, ti dicevo, partiamo da un concetto importante che abbiamo già espresso prima, che il nostro è un paese mediterraneo, quindi non siamo gli Stati Uniti dove queste cose vengono importate, quindi devono essere riadattate. Noi abbiamo realmente la fortuna di avere quotidianamente la disponibilità di questi frutti e di fare questo e questo. Io mi inquieto molto quando sono in albergo la mattina, quando chiedi una spremuta, sembra che chiedi di incontrare il Presidente della Repubblica e ti propongono, dice no, ci abbiamo il succo. Questo è una sostanza industriale, una sostanza industriale con tutti i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, non sono solo svantaggi, però la quantità di vitamina C... Ecco, diciamo, quello che noi diciamo, quello che noi stiamo affermando in questo momento sia con te che con l'amico, sono tutti i vantaggi che abbiamo con la spremuta. E con la spremuta? Assolutamente. Quindi parliamo della spremuta. Anzi, andiamo un upgrade con la centrifuga, perché con la centrifuga tu porti dentro anche il bianco e anche una parte di buccia. Allora non bisogna essere troppo fissati, tra virgolette, con il biologico, ma quando si parla di prodotti come l'arancio, avere la garanzia, spendendo qualcosa in più, che l'arancio sia l'indicazione geografica protetta e che sia biologico, fa sì che tu puoi usare quella buccia per tanti presidi e quindi fare un'ottima cosa. Inoltre, quel rosso non è naturale, è un rosso probabilmente o cociniglia o l'ura, e il rosso all'ura è il 20 luglio 2010, c'è una legge europea nella quale viene detto per la prima volta, è una cosa molto importante, sull'etichettatura proprio, che può nuocere all'attenzione del bambino. Cioè noi dovremmo trovare quindi sull'etichetta delle varie bevande quando c'è un tipo di colorante. Qui è stato trovato un escamotare. No, aspetta, no, rispiega, quindi sull'etichetta se ci dovesse essere colorante, che cosa dovremmo trovare noi? Nuoce gravemente all'attenzione del bambino. Questa è una legge europea? Sì, però già molte aziende che fanno bibite gassate, che andrebbero escluse a priori per altri motivi, dicevamo i sei zuccherini della lattina, l'altra volta che ribadisco e che la sete si soddisfa, ragazzi, con l'acqua fondamentalmente, che queste sostanze, questi colori forti sono coloranti che creano disturbi di attenzione. C'era un studio prestigioso fatto in Inghilterra del 2004 che eliminando tutte le sostanze industriali nell'alimentazione dei bambini, questi dopo sei mesi hanno rifatto dei passi da gigante. Infatti dobbiamo dire che anche tante aziende industriali a livello mondiale si stanno affacciando proprio a questo, tanto che stanno cambiando anche perché hanno capito che ci sono dei veri e propri problemi per i nostri giovani. Completamente rotta, hanno praticamente tolto i due terzi dei componenti di queste bevete. Allora, prima abbiamo letto la sinefrina, cos'è? La sinefrina è contenuta nella buccia dell'arancio, soprattutto quell'amaro, è un effetto dimagrante, infatti l'industria chimica la usa proprio come un dimagrante, ma rimaniamo sul nostro arancio biologico che abbiamo acquistato, lo mettiamo due aranci puliti, le scorze, li mettiamo a bollire, facciamo un infuso, qui c'è sia sinefrina che quindi è un bruciagrassi e sia limonene che combatte l'eccesso di estrogeni, quindi per questo è anche il simbolo dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, non soltanto per la minacci ma anche per il limonene. Ecco, ma stimola anche l'appetito poi? Sì, preso primo, sì, infatti c'è questo fatto, però io dico molta cautela a prendere questi aperitivi con l'arancio messo dentro, perché è stata lavata quella buccia in primis, in secundis, come è stata trattata e quindi rivalutare un po' queste cose. E allora, tu sei mandato dall'osteopata? Come no? Beh, lui ti gira, ti scrocchia, ma ti fa male? No, è un dolore piacevole. Dolore come? Non fa dolore. Nessun dolore.